Carissimo papà, proprio nello stesso giorno che abbiamo spedito la lettera assicurata, abbiamo ricevuto la vostra, con grande gioia di trovarvi tutti in salute, come al presente segue di noi tutti. Abbiamo ricevuto i funghi e vi facciamo molti ringraziamenti, come pure la zia Rosa e il zio vi ringraziano tanto dei funghi, ne hanno fatto molto piacere. Elio, che è il ragazzo più grande, è già più alto di me, ha passato la scuola elementare. Adesso lavora per questi due mesi di vacanza e poi andrà nella scuola alta. È un ragazzo molto bravo. Dunque, caro papà, come avete passato la Madonna del Carmine? Noi l'abbiamo passata bene, abbiamo mangiato spaghetti tutti insieme e siamo stati allegri e contenti. Caro papà, fammi conoscere se tieni il piacere di venire in America, che se vuoi me lo fate sapere subito che io faccio tutti i mezzi possibili per fare venire al mio fianco. Avete passato la mala gioventù e vi voglio fare passare una buona vecchiaia. E se per caso potete arrangiare, mandatemi buone notizie. I più sinceri saluti e vi bacio la mano. Pronta risposta e buone notizie.